Quest'anno l'edizione è stata curata dal raggruppamento Carabinieri CITES di Roma e quest'anno compie 15 anni il calendario, quindi è la quindicesima edizione. Il tema scelto per quest'anno è la CITES e le aree naturali protette nel mondo. Attraverso questo calendario si è proprio cercato di indagare, di approfondire il legame esistente tra area naturale protetta e conservazione della biodiversità. Diciamo che l'obiettivo di quest'anno è, come al solito, di sensibilizzare la collettività sull'importante tema di salvaguardare la diversità animale e vegetale.